Sì, sì, si è aspettato da lì È salito su, mi sa Sì, l'ho visto, sì, sì, sopra, sopra Hitmarker, sopra Sta scendendo, penso, proprio Brava, bravo Brava, bravo Raga, ma voi avete il parte condiviso, così si sente anche il vostro Sì, sì Io penso che lo ero sempre Cioè, spero Cambio posizioni Ma hai messo a 60 minuti Cerca e distruggi Mentre anche 60 minuti Di registrazione Ma veramente? Sì, è arrivato a 60 minuti dopo l'aggiocamento Boh, non dà, no, io ho ancora 15 minuti Vabbè, guardia la Madonna Levate dalla minchia Nessuno, nessuno, nessuno subì, nessuno Sì, ci ne sento uno dentro qua Eh, nessuno subì Sì, si dico Doccanti, ragazzi, è bloccato una macchina, è bloccato anche mezzo Un porco E si ci provo sparando colpi così ti arriva andato Grazie Grazie Scimato Madonna, si ci infalizioni, vedi? Sì Dovevo sparare a dare col mitraglione Ma perchè dovevo andare su B Non c'era nessuno Non si aspettava nessuno, non so perchè sono andate lì Beh Eh, al prossimo andiamo in B Stanno pensando Ehi la, che spot Oh, come stanno piazzando TC Preparatevi al prossimo Eh, bello spot Cioè ci sta a stare qua Se non era largo Ci sta a stare qui Ci sta a stare qui Dai, raga Dai, raga Difendete gli obiettivi Vediamo che ci teniamo a tre per stare, quindi vinciamo tutto Nessuno 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 subì Nessuno Mi rimane carati in ca Nessuno, raga Nessuno, nessuno proprio Neanche broken C'è proprio nessuno, raga Bomba sua Occhio condemn, occhio C'e ne altre Porco dio che spavento Merda L'avevo visto dietro al carro armato, raga Dietro al carro Eh, quando mi stai lì La bomba è nale E fai attenzione che questo qua ha fatto lo scatto indietro, eh Quello col cecco Dici che l'ha presa? Mmmmmmm. non lo so Però ho fatto lo scatto indietro quello che ho walk Kev Non ho acceso C'e' ,呢 Ohhhhhh OHHH OHS LÕH L'ho visto, l'ho visto Porco dio, sic, porca madonna Se l'ho visto non ti preoccupare Sì, ma porco dio Ma il rin forwards c'è poco dio a me porco dio a te e minchia una volta basta no ma vaffanculo dio cane c'è uno sopra oddio roma roma anche il cerco mi sa che erano tutte due linee perchè non è possibile avere una morte scambio posizioni c'erano tutte due luce cerca e distruggi vedi quanti ne passa ah adesso non mi credo giraggiano e giraggia in b nessuno nessuno uno uno due preso preso il secondo uno solo eh raga non era il cicchino aspetta quando mi sento uno in casa eh da non andare eh sarà quello là senti in casa quello? si 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 eh sarà quello là guardatevi dietro guardatevi dietro guardatevi dietro è sotto cadastro capo per voi fatte il marchio fatti il marchio su guardarti uno dietro io eh dietro uno dietro oh attimo lavoro bam attimo che mi fa così già nel mondo è ideale perchè che mi ha tirato la cecante? pezzo usa lui eh, prima di schiacciare cerca e distruggi difendete gli obiettivi si dice dimmi quanti vieni sono altrimenti faccio subito il giro tutti, tutti uno, uno, uno uno, uno non può poro sparare la traffica di maledetto il cecco è verso broken uno è passato reale uno solo in casa si sta arrivando occhio eh non è passato il secondo condom occhio è il cecco sta piazzando occhio è il cecco ucciso occhio è il cecco eh stanno tenendo granate e sordenti sopra eh dunque la bomba è dietro eh merda 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 il cecco lì porco dio che mira occhio Ale, non so dove è andato il tuo eccolo a sinistra a sinistra a sinistra ah non ci arriva ah non ci arriva scimato attivo lavoro riparatevi al prossimo round non ci arrivava col mitragnone oh mamma mia questo doveva portarselo dietro minchia staccalo Ale che quando è ma capito eh scannulo bravo quando eh vabbè guardatevi nel vino ok 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 ora che io faccio un attimo gioco davanti avanti tu si ci guarda ma io li aspetto 1 hit marker 1 con jager 1 con jager 2 2 su 2 su 2 su 2 2 su 2 su 2 su 2 2 su 2 su 2 2 su 2 su 2 2 su 2 2 su 2 stavano arrivando ah merda 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 eh dalla casetta una in casa quando una in casa agli altri due su può piazzare di maledetto subito a sinistra 2 2 2 2 2 vai a piazzarlo eh minchia eravamo un po' mi chiede guarda eh troppo tempo niente eh ma un po' io devo uccidere minchia eh dentro è dentro condammi è dentro è stato qua è sopra è sopra oh era la non l'ho vista ma non è è un'altra cosa però non l'ho proprio visto poi mi sono stato un'arma verde ah nell'angolo stato 6 eh beh piuttosto che uscire di là piuttosto che uscire di là che stra-spuntato aspettali che arrivano 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 che arrivano subito eh no vabbè c'è un piccolo è rimasto verso la bomba no c'è un po' ma sto cancro che ne vada la vita c'è un po' 1 1 1 uno su b e vedi come in b me lo vedo una mano nella chiamata ah eh uno su b due su b due su b due su b occhio a due subire si ci copriamo alla mia sinistra per favore e arrivo ora deve esiacciare il cieco E ne sento uno qua Ah, ho superato la casetta E' andato avanti, raga E' andato avanti, occhio Fa il giro, fa il giro Ah, quando E' andato il giro del cerchino Minchia La granataria E' lì, 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 anche a sinistra No, arriva Adesso Bravo, allora va Bella, bravo, bravo, bravo Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo, bravo E' quello che dice questo E' quello, buh Ma ma con l'emiglio questo wind E' rimasta una granata Che è rimasta sopra Staline di alluminio Ah, pensavo che c'era il cittino No, si sono messi tutte le Tutte le delle M16 Che c'è rimasto sopra un bambino Come volete, raga Ditemi A me se viene Ale con me invece la facciamo Andato, andato Andato Andato, andato 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 Bene la casa E tanto c'è questo Bene Nessuno 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 Dessere E' un bambino E' un bambino I teori E' un bambino E' un bambino E' un bambino in casa senti qualcosa dietro e raga regalo stessi fuori la casa buco fuori la casa bravo Ale l'hai fatto bravo Ale bravo Ale bravo Ale l'ultima era qua allora abbiamo la bomba era questo non so che che vedo mazzo mi sa che Ale vuole leggere il no va 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 andiamo andiamo non lo so andiamo 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 non so perché non sta parlando se ci guardami il mid il tempo sta per scadere ok vai Ale prendo il centro pure il ponte del loro spot eccolo centro centro merda vieni dal centro eh dal centro sinistra mamma mia mamma mia eh mica ero sicuro di shottarlo dio caro eh si 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 chissi si 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 bam eh minchia qua ero da shottare c'è in teoria mi ti ho lasciottato questo mamma mia scambio posizioni oh goddio mamma che freddo mamma che freddo raga cerca e distruggi dai raga la difesa difendete gli obiettivi dai raga dobbiamo finiremo subito sto round che chiediamo quelli di se vogliono giocare ancora 1 1 1 1 1 solo due 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 col cecco non cecco no è tornato verso aquas uno solo oddio Vai Tu è sopra Bomba piazzata Subito Subito Eccolo No è scappato È scappato Verso la casa Dentro cassa bianca Bravo condem Bravo condem C'è 20 secondi condem Bravissimo condem Bravissimo Bravissimo Raga mandate un messaggio a quelli altri Mandate subito un messaggio a quelli I have bug mental Bravissimo Eh buona vado già a vedere quelli come si chiamano Vado a dare la vittoria Vado a dividere quelli Ho già messo la vittoria Che quei euro sono? 420 5 minuti di ocane Va bene va bene va bene No vabbè un quarto d'ora deve passare in teoria Eh dai diciamo che c'è stato il ball Ragazzi C'è una fine La colpa nostra Bravo Bravo con Minchia Vado a vedere la ripartita La partita Sì